Paco ma lunedì non è uscito niente diciamo che ho avuto impegni vari quindi non ho potuto registrare mi son dimenticato lo ammetto ah ecco eravamo alla palestra di cacca al 50 selvatico l'ho apprezzo con la pokeball si e lo chiamo Cushy acto 3 la prima mossa con le ottero che apprende è venta argenteo a livello 47 bella sta cosa finalmente finalmente ti ho trovato avevo saputo che avevi cominciato un'avventura e volevo vedere come te la cavavi dio quanti congiuntivi sbagliati beh fammi vedere complimenti è un'ottima squadra passando un ottimo tra l'altro senza apostrofo passando a cose serie prima ho visto passare per di qui il team n già lo conosco anch'io chissà cosa hanno in mente beh io vado ciao alp vaffanculo uh ci si rincontra e cosa non sai dov'è la pa- dove sia aha ma sei del tutto fuoristrada questa non è rocciopoli beh è comprensibile sei ancora un bambino beh io vado e per non farti perdere ti dico che rocciopoli si trova alla fine di questo percorso ciao alp ti aspetto che cazzo sta facendo scusi buon uomo quale droga utilizza me la può consigliare spero sia veramente alla fine di questo percorso dai fammi fuggire cosa mi sta a significare lo rocciopoli non è assolutamente verde a zupoli con la sabbia no signore non è così allora questo poi questo sono stupido questo questo dovremmo esserci tra l'altro e infatti ciao tizio con sotto la musica del team magma che voi non sentirete però vi avverto è così sei forte no ti prego yame te sta per dino senpai ok son bravo è vero barriere invisibili mi bloccano il passaggio eeeh cosa ti ho battuto vattene eh mociosa non finisce qui sappilo non avete ancora visto la terrificante potenza del team n ciao alp non preoccuparti in gruppo sono forti ma da soli sono delle schiappe comunque come va le lotte in palestra io ho appena ottenuto un'altra medaglia anche tu complimenti ora serve solo l'ultima se non sbaglio si trova nella città di temporopoli su in mar su con l'accento io ti ammazzo sta zitto ho già slow bro fammi indovinare ho salvato per sicurezza perchè so che accadrà qualcosa si inibitore cosa cosa come lo finisco il gioco forse di qui no no signore allora analizziamo bene di qua c'è qualcosa no sarà minimo al solito infatti non ho nemmeno modificato questi allenatori quindi capirai ok allora montepira è bloccato montepira scusa avrà un altro nome non è montepira allora di qua non c'è niente di qua non c'è niente devo per forza andare qui mannaggia me vabbè tanto finisco qua sopra posso volare grazie grazie ma allora scusami un attimo quando eh cosa mi sta a significare oddio sono stupido sto divertendo this is truly the best gioco ever detto con quale italiano maccheronico tra l'altro oh sta zitto sta zitto sta zitto sta zitto sta zitto sta sta zitto sta zitto grazie no non gli ho parlato per la medaglia no grazie ho la medaglia sì bene aspetta 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 due secondi perché no allora salva sta zitto sì se provassi a rimergere qui al 61 mascherine why lord un repellente qui no eh sono stupido anch'io volo ciao eh pokemon market qui minima schermetto opposto pokemon market con il center oh che burlo scritta rossa bello arrivo giuro che arrivo grazie perché tutta sta cosa qui eccoci ai ridò a slastopoli scusa signori direi che per questo episodio basta che palle fra poco è anche finita la serie contenti è durata almeno nel previsto perché dopo ho dovuto tagliare un po' di cose tipo allenatori inutili 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 allenatori inutili